La giornata di oggi rappresenta un passaggio importante per l'azienda perché è un po' il momento di divulgazione di un progetto molto ampio che è stato articolato in un lasso di tempo già antecedente e che oggi ha avuto evidenza per quelli che sono gli aspetti già di parziale attuazione ma soprattutto quello che riguarda la programmazione di riqualificazione complessiva dell'ospedale infantile. L'obiettivo quindi è migliorare il contenitore per portare benefici sempre maggiori alla qualità dei servizi offerti all'utenza e ai pazienti conservando però l'autonomia del presidio. L'ospedale infantile è un punto di riferimento per la città di Alessandria ma per un territorio che è addirittura molto più vasto della provincia di Alessandria ed è un punto di riferimento non soltanto come servizio sanitario offerto alle bambine e ai bambini che ne beneficiano ma è un motore economico ma soprattutto è un motore di relazioni e di socialità veramente straordinario. Certamente questo è un passo importante dell'azienda ospedale universitaria di Alessandria per riqualificare un ospedale che già di per sé è molto prestigioso. Io ritengo che la struttura nuova riqualificata possa rappresentare ancora di più un punto di riferimento per tutte le patologie infantili del quadrante ma anche dell'intero Piemonte essendo già riconosciuta come tale da tutte le autorità sanitarie soprattutto a livello regionale. Questo percorso di riqualificazione inoltre ben si inserisce all'interno della ridefinizione del modello organizzativo funzionale della rete pediatrica previsto dalla regione nel 2023. Abbiamo visitato il cantiere, il cantiere dell'ospedaletto, un cantiere che vedrà poi alla fine sostanzialmente rinnovato l'ospedaletto perché c'è un importante intervento di efficientamento energetico con la sostituzione anche di tutto il tetto che è in fibrocemento contenente amianto quindi verrà rimosso e bonificato. Ci sono importanti interventi anche sotto il profilo di un nuovo blocco operatorio perché più di 1200 metri saranno dedicati al nuovo blocco operatorio quindi 7 milioni e mezzo di intervento e in più il miglioramento antisismico anche lì il PNRR ma insomma complessivamente più di 26 milioni di lavori che daranno un nuovo volto all'ospedaletto compreso anche l'ingresso che sarà anche abbastanza futuristico. Oggi abbiamo presentato ad Alessandria un intervento da 26 milioni di euro per mettere in sicurezza a modernare e rilanciare con strutture moderne l'ospedaletto di Alessandria, quello che cure i bambini, quello della medicina infantile. 26 milioni di euro che sono frutto per 3 milioni e mezzo di un lascito di una famiglia, della famiglia della signora Baralis che naturalmente ha dimostrato la sua grande sensibilità e a cui noi abbiamo aggiunto oltre 23 milioni di euro di risorse pubbliche tra quelli del PNRR e quelle risorse della regione Piemonte.